E' stato firmato nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana l'accordo quadro tra l'Asi e la Regione Calabria con lo scopo di perseguire obiettivi comuni nel campo spaziale e aerospaziale, in particolare nell'ambito dell'osservazione della terra, del downstream applicativo, della diffusione della cultura aerospaziale e della tutela del territorio e dell'ambiente. Le applicazioni nel campo dell'osservazione della terra saranno impiegate anche ai fini del monitoraggio ambientale, marino, forestale e agroalimentare e per la tutela del patrimonio culturale e archeologico. L'accordo è stato sottoscritto dal Presidente dell'Asi, Teodoro Valente, e dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, alla presenza del Direttore Generale dell'Asi, Luca Vincenzo Maria Salamone, e del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Salvatore Siviglia. Le iniziative e i programmi, scritto in una nota, saranno realizzati congiuntamente e in maniera coordinata. Nello specifico, la collaborazione riguarderà attività e applicazioni relative all'osservazione della terra per il monitoraggio e la prevenzione dei disastri ambientali, al fine di assicurare interventi tempestivi nelle aree critiche e misurare gli effetti del cambiamento climatico.